Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. Sabato 19 novembre a Colleferro alle 17 presso la Biblioteca Comunale Morandi verranno presentati libri di Alfredo Stirati, Dante Segreto e Dante Dramma in Tre Atti. A Campole Appennino sabato e domenica nel Centro Storico, secondo weekend della 35esima edizione della Festa del Tartufo Bianco e Nero Pregiato di Campole Appennino e dodicesima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e Nero Pregiato. A Fontanaliri sabato e domenica appuntamento con Le Vie della Solfatara, percorso enogastronomico con mercatini e spettacoli dal vivo. Ad Aquino, sempre sabato e domenica dalle 11, nel Borgo Medievale è aperto il magico villaggio di Babbo Natale con un nuovo percorso a tema natalizio e nuovi spettacoli di magia e giocoleria. Un grande spazio all'aperto con maxistruttura riscaldata, food e casette di legno per trascorrere l'intera giornata in sicurezza. Il villaggio sarà aperto tutti i weekend fino al 26 dicembre. Domenica 20 a Roccasecca, dalle 10 alle 22 in località Borgo Castello, appuntamento con la sedicesima edizione di Le Cantine de Navota, percorso enogastronomico con mercatini e musica live. Per inviare le vostre segnalazioni scriveteci a weekendchiocciolateleuniverso.it